Alla ragazzi, avete visto che è magia? Da Radiato Springs a Ornament Parley Yeah! Siamo finalmente di nuovo in questo mondo bello Ok bello Ora ci dedichiamo in... facciamo 5 minuti Dato che ho posto rimasto un po' più indietro Quando è 5 minuti smettiamo Ecco, non riusciamo a prendere quelli Nooo, li ho persi Ah! No! Nooo, ecco, quelli io non sono riuscita a prenderli Voi ce la fate? Se avete il gioco, quelli che hanno il gioco voglio dire Nooo, uno l'ho preso, per culo Questo lo posso chiamare culo io Lo posso chiamare culo solo a quello eh Perché uno, cosa vuoi che sia Oppure no, aspetta, ogni punto 6 minuti Quindi questa volta 6 minuti facciamo Sì, questa volta 6 minuti stop Perché voglio far così? Perché l'ho deciso io Yeah! Oh bello ragazzi, questa è una figata Sto gioco è bello perché a volte vedi delle rampe nascoste Tipo quella non l'avevo quasi vista No, giuro che non l'avevo proprio vista Ma non importa perché adesso facciamo un salto epico Sì Guardate che salto eh Chiamatelo epico questo Vabbè Tentiamo per l'ennesima volta, no? Abbiamo già sprecato Ma vaffanculo, te chi ti ha creato? Eh, dai Oh Siamo a un minuto e 43 Se non ci sbrighiamo la cosa non è bella Allora Fortuna che ho quelle macchine fotografiche Che ti fanno vedere quanto tempo hai Hai macinato No, c'è quasi Cavolo Vabbè Uh, faccio l'ultimo tentativo Se non ne riesco a prendere nemmeno uno No, sono finta Sì, sono finta Oh Ciao Carla Trezzi Non ti avevo visto, scusa In realtà ci ho fatto apposta L'avevo visto benissimo Eh Allora, adesso Ah, la mia musica preferita Sentitela No Vabbè Lasciamo perdere Yeah Prendiamo altri punti bonus Che sono nascosti per Ornament Sì Sì, Ornament Valley No, che mi confondo con Moment Valley Che è Un posto molto bello Anche quello Che Che si trova sempre in a me Bello è quello Allora Dove le possiamo trovare Alcuni punti Quanto se vado a zonzo come un deficiente Ma devo Ah, eccolo Uno Già Se ne trovi due Sei abbastanza fortunata Puoi ritenere Fortunata Poi la musica ti incoraggia anche un po' Yeah Ma perché non posso andare di lì? Chi me lo vieta? Ah, altri punti bonus Che culo ragazzi Visto? Con la fortuna non si può mai sapere Gente Ah, un altro punto Un altro E un altro ancora Che culo Un altro No, no Non ti fermai Ah No, 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 no Do cavolo No, l'ho perso Vabbè Ah, è qui Chi l'aveva vista? Scusate per questo piccolo problema della visuale Ma Non ci posso Cos'era? Un punto bonus? No, non dico della palle Mi sembrava di aver visto un punto bonus Ah no Mi sono sbagliato Quattro minuti e tre Allora Fra un po' dobbiamo Smettere Yeah Oh, la strada è chiusa Oh, yeah Povero sai Va a sbagliare sempre Ormai È una tradizione Ma adesso devo trovare altri punti bonus Ma non so dove cacchio sono Questo posto poi è tranquillo Vabbè Tra virgolette Yeah Ah, questo tempo che abbiamo Cerchiamo di usarlo Per prendere L'affanculo E i punti Che figo il binario Non facciamo più il latte Aia Questa è stata una pirlata Perché non lo sapevo No, no Non lo sapevo ragazzi Sul set Che a cavolo hai detto? Non ho capito niente Ma non importa Dei punti Oh E che palle Però non li prendo mai Quelli che contrassegnati da delle rampe Non li prendo mai Oddio 5 minuti e 23 Ah Andiamo a darci una mossa Quindi ora facciamo una rincorsa di quelle Da spaccare tutta l'aria Andiamo a fargli un buco dentro Ok Ora facciamo il freno a mano Acceleriamo Ecco Vai 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 E No Ho fatto una cavolata Dai Veloce Se non mi finisce il tempo Eh Perché sono così impedito Dai Ce la devi fare Dite Non dite che non vi interessano questi Ecco Siamo già a 6 e 5 Vabbè Non ce ne frega nulla Eh Uno l'abbiamo preso Bene ragazzi Ora ci vediamo Ciao ciao